Entro lì, anche a Lucciardone, mi rendo conto che qualcosa devo cambiare, un lascito diverso devo lasciare al mio figlio e sicuramente a differenza di tanti che considerano in un tesoro, in qualcosa di materiale il lascito che ogni padre deve dare al figlio, come vede anche ultimamente sono stato criticato pubblicamente anche da esponenti della mia famiglia, credo che il lascito che ogni padre deve al figlio sia qualcos'altro, magari tanta gente in questo momento dirà belle parole, ma credetemi, quando si ha un figlio la cosa più importante è forse un domani far capire che almeno ci ho provato, non so se ci riuscirò, penso di aver dimostrato di non volermi sottrarre a nessun tipo di accertamento, rinunzierò alla possibilità di usufruire della prescrizione del reato perché voglio accertamento dei fatti, perché credo che accertamento va fatto, non credo che sia un mezzo per sfuggire, per non lasciare mai nella gente il sospetto che qualsiasi mia decisione sia finalizzata a benefici.